Avera gli altri devono ripolle su un piccolo, c'è la parte. Cosa vedi? Non è più forte. 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 Ehi, papà, è un altro che ti dà più di una piccola. Non è più forte. Non è più forte. Non è più forte. Prezzo? 15? 15 o no? Credo che non è più forte. È più grande. Papà, è 32G. Ora 10G si lascoltà. Chi sta? Ah, papà ha comprato anche 6 DVD. Una. E un CD. Prezzo? 35. E 15? 32G. E un 3G. Un desiderio incontentibile. Un 2G. Un 2G. Un desiderio incontentibile. Un bisognito incontentibile. Un 2G. Non è più forte. Un 3G. Un 4G. E Go